ciao a tutti oggi prepareremo la pizza in teglia 4 formaggi il tempo di preparazione della ricetta è di tre ore circa gli ingredienti sono acqua zucchero lievito di birra fresco farina di divo zero olio evo e per farcire mozzarella provola affumicata gorgonzola fontina e olio evo diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua il lievito di birra fresco e lo zucchero ed azionare il bimbi per due minuti 37 gradi velocità 3 aggiungere la farina l'olio ed il sale ed impastare in modalità spiga per quattro minuti trasferire in una ciotola unta con olio coprire con pellicola trasparente lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno due ore trascorse il tempo l'impasto è ben lievitato trasferire su una teglia rivestita con carta da forno e stenderla con le mani unte con olio mettere la scamorza affumicata la fontina la mozzarella ed il gorgonzola irrorare con un filo d'olio cuocere in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 20-25 minuti la pizza è cotta servire pizza in teglia ai quattro formaggi grazie e alla prossima ricetta pizza in teglia ai quattro formaggi 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 Grazie a tutti.